Non mi interessa se c'era più caldo, se c'era più amore. E che cosa ho? Una caramella, non mangiare. Non so se è una caramella, però. Non so tanto da caramella. Mi va bene, Pio. È un scello quente e un scello fatto. Sai cosa ho mangiato prima? Galao. Io non ho mangiato il galao. Picantissimo e bellissimo. Con rosso. È bellissimo.